ritorno all'appuntamento con tra le righe incontro con l'autore oggi vi presenterò un romanzo edito da Manni Editore a firma di un amico di Padre Pio TV perché è stato già nostro ospite con lui abbiamo presentato un altro libro dedicato a Don Tonino Bello e la politica lui è l'avvocato Cesare Paradiso nato a Taranto dove vive ed è avvocato nel campo del diritto civile e di famiglia ben trovato Cesare grazie per aver accolto nuovamente il nostro invito grazie grazie a voi tutti un romanzo intitolato sull'altra riva racconta la storia questo libro ha come sfondo la storia di una famiglia la cui quotidianità viene stravolta da una malattia che è l'Alzheimer, una malattia devastante che annebbia i ricordi, i volti, le storie e le cose di tutti i giorni che cosa ti ha spinto a raccontare questa storia? beh come spesso succede sono poi le storie che vanno dagli autori e non viceversa nel senso che io ho raccontato questa storia e ridutto di raccontarla perché la conoscevo e la conoscevo bene cioè quella che racconto in realtà è una storia reale di due persone come dire in carne e ossa che io ho conosciuto e la cui vita come dicevi tu è stata devastata da questo male terribile che purtroppo la nostra società conosce sempre più spesso quello che ho fatto io rispetto alla loro vicenda è intanto di ambientarle in un contesto narrativo io non ho voluto fare un diario clinico di quella malattia ho soltanto voluto avvicinare ai lettori attraverso la mediazione di chi scrive tutto quello che stava loro capitando per far questo non mi sono accontentato di conoscere la loro storia genericamente con un giro di telefonate con qualche incontro casuale a un certo punto ho preso proprio l'abitudine di andare a trovarli a casa loro e quindi io ho potuto conoscere l'evoluzione ahimè l'involuzione, l'anti-evoluzione del processo di malattia di questa donna ho potuto conoscerlo passo dopo passo e quindi alla fine poi ho potuto farne racconto non sono stato il primo a scrivere di Alzheimer, non sarò certo l'ultimo ho voluto solo dare un taglio diverso come probabilmente riusciremo a dire a questa mia narrazione Sì, è un taglio molto colloquiale, intimo, è come se appunto tu ti fossi affacciato in punta di piedi e fossi entrato in punta di piedi nella quotidianità di questa coppia, appunto di questa famiglia e davvero con grande delicatezza tu abbia scelto di raccontare non solo la loro storia hai detto bene, non hai fatto il quadro clinico anche se di malattia si parla però hai raccontato soprattutto le emozioni e quello che evince da questo romanzo emerge proprio questo c'è un passaggio che voglio leggerti certo non serviva a lui che le accarezzava le mani come quando la malattia non c'era che le accompagnava il dolore come avrebbe fatto con la gioia lui era suo marito il marito della donna sorridente e vivace delle fotografie e di quella rattrappita sulla sedia a rotelle perché sua moglie era entrambe quelle donne vero questo passaggio credo Cesare non abbia davvero bisogno di alcun commento perché è così quindi c'è una la persona è sempre la stessa è sempre sua moglie solo che c'è un prima e un dopo la malattia sì bello allora andiamo avanti con il racconto o meglio no mi vorrei soffermare sul titolo sull'altra riva qual è l'altra riva del fiume qual è l'altra riva del cuore se esiste sì esiste una cosa che io avevo notato nei libri che prima di me si sono occupati di Alzheimer era che il processo che faceva la persona anche molto vicina emotivamente e affettivamente al malato era un processo di estraneità naturalmente non in senso soltanto negativo cioè mancava la immedesimazione nel grande dolore che questa persona stava provando c'era qualche volta addirittura rabbia c'era impotenza c'era preoccupazione, stupore eccetera mancava quello che invece io ho trovato in queste persone che ho provato a raccontare cioè semplicemente quest'uomo ha fatto una scelta di mettersi dalla parte di sua moglie cioè ha scelto di andare sull'altra riva quindi l'altra riva è naturalmente è una simbologia non è una riva come dire materiale anche se la copertina porta due rive quindi due sponde quindi un passaggio e collocarsi finalmente accanto a questa persona tu hai letto quel brano che racconta proprio questo quindi c'è una riva stare dall'altra parte provare a mettersi dall'altra parte quindi esiste questa riva tutto sommato questo libro è una storia d'amore bravo esatto proprio così nel senso come posso dire meno zuccheroso del termine noi adoperiamo con una certa facilità adesso questa parola e poi qualche volta quando invece andrebbe adoperata non lo facciamo in questo caso è davvero una storia d'amore è proprio l'amore che io ho letto in un documento recentemente mi pare proprio del del sitono dei giovani quello che è stato fatto a Roma l'anno scorso e questi sono i propri amori a perdita cioè quegli amori in cui uno sa che deve dare sa di non potersi aspettare niente ma sa che è proprio quel che deve fare ed è in questa in questo contesto che riesce finalmente a trovare l'altro finché noi possiamo stare anche più comodamente su questa riva qui no? cioè dove guardiamo tutto quello che succede e non ci preoccupiamo di condividere davvero quel dolore perché poi alla fine il dolore ci spaventa noi immaginiamo questo viene fuori in uno dei dialoghi che in questo libro ci sono il dolore ci sembra quasi un incidente di percorso cioè la vita invece è fatta di un meraviglioso cammino di gioia ogni tanto questo dolore noi dobbiamo fare in fretta a superarlo se invece mettiamo in conto il fatto che il dolore è proprio parte della vita certo non è che lo dobbiamo subire passivamente dobbiamo provare a venirne fuori ma non possiamo pensare che il dolore sia soltanto un'eccezione e che invece la regola sia questo percorso trionfale diciamo verso la gioia purtroppo la vita dimostra ahimè che il dolore è molto più frequente degli attimi cosiddetti gioiosi e noi quelli viviamo quelli attraversiamo e quelli dobbiamo attraversare con dignità anche stando accanto a queste persone che regrediscono sempre più sotto i nostri occhi sì c'è anche un passaggio sul dolore molto bello tra i due tra due personaggi del libro c'è appunto uno dei due uno dei personaggi del tuo libro fa una scelta precisa quello di lasciare professione lavoro vita sociale per dedicarsi appunto alla moglie malata di alzheimer per dedicarsi con amore ad accudire la moglie e questa è una decisione che poi colpirà trasversalmente indirettamente un altro personaggio del libro questa è una scelta narrativa ben precisa che tu hai utilizzato per comunicare qualcosa di forte al lettore Cesare sì certamente l'incontro fra queste persone è un incontro che non vuole essere come ho già detto all'inizio un diario certo io mi sono inventato questo io narrante diciamo che poi è un giornalista e mi serviva che fosse un giornalista mi serviva raccontare in prima persona perché la prima persona consente una presa diretta quest'uomo però va lì a fare giornalista lui va lì a spalleggiare quest'amico che ha incontrato questo grandissimo dolore e a poco a poco si accorge che come la scelta così radicale che il suo amico ha fatto cioè di condividere in tutto e per tutto mollando tutto la sofferenza di sua moglie come questa scelta è stata valutata e spesso criticata anche dai suoi colleghi di lavoro dai suoi amici che gradualmente piano piano lo hanno sostanzialmente abbandonato così sta ricadendo anche su di lui sull'io narrante che vive la sua vita che ha una sua vita privata anche piuttosto deludente una moglie che è sempre più invisibile ai suoi occhi e che rispetto alla quale lui piano piano senza sapere quale sia la causa quale sia l'effetto il perché il per come e le ragioni profonde piano piano lui riguadagna la sua attenzione riguadagna ai suoi occhi anche le sue debolezze le debolezze di sua moglie le fragilità questa questa tenerezza sempre più assente nel loro rapporto piano piano loro la recuperano la recuperano non perché è avvenuto un miracolo ma perché attraverso il contatto diretto con un dolore forse più significativo con una fragilità davvero devastante e lui Carlo il narratore ha potuto forse dare alle cose alla vita al suo destino alla sua alterna fortuna la dimensione più reale più giusta più coerente esatto e allora il romanzo di Cesare Paradiso sull'altra riva edito da Manni vi aspetta in libreria grazie per essere stato con noi Cesare grazie per averci voluto raccontare anche qualcosa in più da un punto di vista narrativo ma anche tuo personale riguardo appunto a questo libro che hai scritto grazie di cuore e perché no al prossimo romanzo te lo auguro grazie 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 a te e grazie dell'attenzione grazie a te